Si ha un po' l'impressione che noi perdiamo un po' questa identità e dobbiamo ricuperare la nostra fede. Il messaggio di Monsignor Miguel Angel Ayuso, preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica di Roma, invita al senso di una cristianità profonda, riconoscersi nella propria identità religiosa come avviene per i musulmani. Proprio sul tema del dialogo tra Islam e cattolici si è incentrata la prolusione di Monsignor Ayuso nella giornata inaugurale del sesto anno accademico della Facoltà Teologica Pugliese di Bari. Il rapporto tra le due religioni è fondamentale non solo nell'attività pastorale, ha detto invece Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo della diocesi Bari Bitonto e gran cancelliere della Facoltà Teologica. Senza questa possibilità di approfondimento teologico del Magisterio della Chiesa e anche delle esperienze delle Chiese, anche la vita pastorale e l'accoglienza, il dialogo con i cristiani di differenti confessioni e con i membri di altre religioni finisce con non essere efficace. La Facoltà Teologica Pugliese oggi conta tre istituti e altri sette istituti superiori collegati per un totale di oltre mille studenti. Siamo una facoltà in rete, ha detto nella sua relazione il Preside Monsignor Salvatore Palese. È il centro dove si riflette, si conosce, si educano soprattutto coloro che daranno dirigere le comunità cristiane per aprirsi ad un dialogo fecondo, ad una operosità intelligente. È l'avvenire, insomma, la Facoltà Teologica è l'avvenire che sta preparando.